Come avviare l'approvvigionamento delle risorse energetiche nell'attuale contesto geopolitico? Si sta creando, oltre a un problema energetico, un enorme problema di approvvigionamento di materie prime. L'Unione Europea ha calcolato che ci sono 390 materie prime che l'Europa importa al resto del mondo, per molte delle quali ci sono difficoltà di approvvigionamento e prezzi in crescita, considerando che Russia e Ucraina sono tra i maggiori fornitori di queste materie prime. Questo sta bloccando il processo produttivo di molte aziende, che sono materie prime che vengono utilizzate in tutti i processi produttivi. Questo naturalmente sta creando ritardi nella consegna dei beni e anche aumenti dei prezzi. che fino adesso abbiamo visto solo una parte, ma che potrebbero esplodere nel prossimo futuro, qualora ci fossero difficoltà ulteriori. Suo giudizio su questa conferenza Energia Italia? Ma al momento è giusto e con i temi giusti. Credo che questo è un tema che deve essere sempre presente. Forse è il primo punto dell'agenda di qualunque governo, di qualunque paese e lo sarà credo per i prossimi anni.